Salve a tutti ragazzi, io sono Phoenix e bentornati nell'ombra di Mordor, nell'ocenza signore. Prodeguiamo con le missioni per potenziare l'anello, con la costruzione scadente. Vicino alla vecchia missione che abbiamo fatto l'ultima puntata, per cui andiamo avanti. Allora, in teoria dovremmo eliminare delle gru, forse, a sto giro? Non lo capito bene, ma anche gli Uruk... Ma anche uccidi tutti gli Uruk. Ok. Buono. Oh, non volevo. No, no, non hai sentito nulla. Allora, attriamo, marchiamo, noi marchiamo. Così. Che è molto, molto più utile. Vai, attiriamo anche lui. Vieni a qua, vieni a qua. Uno. Allora. Piccole chiacchiere da uno. Il cervello mi fa brutti scherzi. Allora, vediamo. Lui si avvicina per di qua. Bene. Allora, vediamo. Così. Uh. Abbiamo un berserker. No, un berserker. Un tizio con lo scudo. Laggiù qualcosa si è mostro. Dai. Oh, oh, non volevo, non volevo, non volevo. Vai. Avvicinati, dai. Così. Ne mancano tre. Ne mancano tre. Allora. Due sono là giù. Uno invece è... Forse qua su. Qua su, sì. Ah, non volevo. Tirati su. Vediamo. Potremmo farlo? Sì. D'accordo. Allora, saliamo su. Così. Tirati su. Vai. Marchiamo. Che brutta animazione che ha fatto, mamma mia. E adesso ne manca uno laggiù. Che andiamo a recuperare. Così, con calma. E far simone. Allora, utilizzo gli urcani per distruggere le gru. Le gru che sono queste, immagino. Vai. Evochiamo un po' di gente anche. E noi difendiamo gli urcani. Vai. Così. Baby. Oh. Oh. Ma. E che cavolo. Catturiamo più sende possibile. A sfavore del... Ah. Ah, state attaccando la gru. Fantastico. Bravi, urc. Certo che sapete veramente collaborare ogni tanto, quando volete. Allora. Andiamo a eliminare questa. Oh. Quanti siete? Così. Baby. Oh. Vai, vai. Uruk. Volete... Iniziare ad attaccare questa gru? Oh no. Oh. Mamma mia. Allora. Tu mi fai comodo? Sì. Sì che mi fai comodo. Avanti, avanti. Attaccate dall'alto. Opla. Allora. Oh. C'è tanta, tanta, tanta gente. Fantastico. C'è anche i nemici. Nemici. Non abbiamo visti. Ok, dai. Bravi, Uruk. Io ora mi metterò qua a godermi lo spettacolo della gru bruciare. Dai, ci siamo quasi. Bravi così. Molto bravi. Bravi ragazzi. Molto bene. E con questo per oggi è tutto. Vi ringrazio per aver visto il video. Fatemi sapere cosa ne pensate, mi piaciate e condividete ragazzi. Per cui, alla prossima ragazzi. Ciao. Ciao.